E allora questi pomodori li prendiamo all'orto del suo alfio. Sono un pomodoro bellissimo, originale. Li porto a casa, li lavamo per bene, stiamo tagliando a pezzetti. Poi che sono fatti a pezzetti mettiamo in acqua rara, li facciamo bollire almeno almeno per un'ora, perché va bene per la ricetta salsa. Dopo che è bella cotta, lo raccenniamo e passiamo un'altra macchinetta. Dopo che sono passata un'altra macchinetta, la salsa già è pronta. Mettiamo il basilico, ci mettiamo il basilico, il cuore e mettiamo i bottigli. Dopo chiudiamo per bene. Poi mettiamo a bollire di nuovo in acqua rara e facciamo bollire all'incirca per un'ora. Dopodiché la salsa è pronta. Ponte la tauva. Grazie. Fino. È schi ہیں e